Mi trucco come quella persona? Allora, premetto che io non mi trucco tanto, cioè, non mi interessa in realtà, perché, cioè, opinione personale, per me quelle ragazze che si truccano troppo sono, cioè, non vi offendete, ma sono delle troie! Scusate, cominciamo! Userò trucchi economici perché, oh mio Dio, quelli che spendono tanti soldi per i trucchi, cioè, ma come fate? Io preferisco risparmiarli per poi... Non lo so, non ho interessi, non ho una personalità, non so che farmene. Un po' di corretto... No, troppo, ne ho messo troppo! Ci sono una brava ragazza, io ve lo giuro! Il braccio non lo metto perché arrossisco già di mio! Cazzo te guardi! Ha visto? Sono già arrossita! Mascara ne metto poco perché ho già le ciglia lunghe e mi dispiace per voi che dovete metterne tantissimo! Mi dispiace, non è colpa mia se ho le ciglia lunghe! E infine un po' di burro cacao alla cigliazza! Perché in realtà vorrei che qualcuno dei miei amici maschi mi baciasse invece di dirmi di stare zitta e che sono una cazzo di Pikmi Girl! Dimmi se non ti ricordo qualcuno e seguimi su IG!